la la forma baggata di ma di 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 così quanto di mucche allora facciamo qua ma lo so qua sono più qua 4.4 4.4 4.4 non sono qua giusto si allora sopra si mette due pezzi di vetro va anche e svegli poi qua mettiamo il primo dispenser distributore ci va praticamente l'acqua così qua ci mettiamo il secondo più alto di due dove mettiamo la lava ah e vabbè però abbiamo bisogno di un coso un cosa cosa di una clavicola una piattola una un'end una 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 o ce ne si chiama una cesta no quale cesta ah un hopper un hopper oppure una tramoggia come chiamano ok allora mettiamo la tramoggia e poi ci serve pure un'altra cosa dov'è usiamo questa e allora la tramoggia praticamente serve per prendere la mucca che cuoce e la metto nella cassa eccola ok 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 penso che posso non ci va qualcosa qua sopra e qua si può chiudere solo che qua ora il problema è far salire la mucca perché la mucca va qua capisci? capisco e allora cosa facciamo salire la mucca? mmm facciamo guarda tipo mettiamo qua allunghiamo un poco eh? così piccolo tipo qua no allunghiamo un poco così lo lo salgo va meglio perché di più è un po' difficile farle salire aspetta prendiamo la corda prendiamo la corda mi servono almeno minimo due mucche per iniziare si perché sennò non facciamo niente ehm corda sto a messa la corda no eccola eccola qua allora facciamo salire e poi la blocchiamo oppure è un casotto e un casotto aspetta qua ci mettiamo perfetto ho già io queste cose e saliamo noi la mucca possiamo sciolco oh sì aspetta tipo che la lego che me ne servono due mucca ah sì sì che sto facendo booo allora proviamo lo sta avvenendo la notte allora 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 ok prendiamo la mucca e proviamo no dormiamo perché sennò vuoi sparare un grito scoppio tutto ma non sai cantare completamente mucca tu sei la prescelta vieni mucca vieni mucca vieni figlia figlia di una grandissima voglio uscire un'altra uscita tutti tutti escono dove la faccia cotta vabbè allora tu bene brava di buona lena vieni 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 di buona lena fermati lì vieni 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 bella vieni 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 no no cosa fa no cosa fa è scaduto è scaduto pure io ma che fa ma che fa ma che fa me la Si ho perso la corda Allora, cominciamo Allora Troviamo un altro sistema Guarda, ti dico il mio sistema Allora Guarda, ti dico il mio sistemola Qua chiudiamo Cioè, chiudiamo Insomma, ci facciamo tutta una struttura Con il recito sopra E un casotto di quello Casottone Quello è meglio un ecosistema, sai Allora, ci facciamo una scala Posso rompere qua Facciamo un'altra struttura che poi rompiamo Faccio un'altra struttura Allora, mi serve l'altra di questa roba Due, mi servono Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto Otto Sì, credo, sì Allora, facciamoli Dieci Allora, zon, 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 zon Zon Quanti Vi farmo da un piccolo Vettisceloltre due qua Che casino Buono, vettisceloltre due là vicino Cosa? La cosa Nel recinto Vettiscelo No, guarda qui Chiefigo, sotto il clic È il kepada solo la porta c'è l'altro c'è l'altro ah va ah va ah va ah sto pieno ok ok voglio provare una cosa ah non si prende ah non si prende ma come si ma dove è l'altra mucca non si uscite tre si 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 ah no quella è dalla fine vieni mucca mucca bocchetta vieni 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 qua no dai no che eh si vabbè mi lagga ok facciamo un recinto più grande e poi praticamente vieni 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 andalo l'angelo bene ok siamo dentro ok ora sarà un casino quella cadere no, quella cadere no, prendere l'altra la cosa è andata l'altra mucca dai, vai veloce sei andata l'altra mucca cosa è andata l'altra mucca? non è andata l'altra mucca ah, no non è l'altra mucca per il momento ha capito l'antifono e si è scappata corri corri troppo lento vabbè ma mucca chiama, chiama mucca non è andata è scappata ok, dai vieni, esci dai avanti vabbè vabbè se non lo so vedo vieni brava tu sei intelligente vieni vieni entra 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 è caduto entra allora quando è così lo scavo è questo qua chiudi 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 eeeh attacca attaccala qua ma aspetta che stupido sta buona no muoviti ah bastarda vieni sono stato stupido perché ho già potevo buttare sotto praticamente ok ok dammi la corda ok ora buco sotto ci arrivo spostati ciao cadi 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 niente non piace questo oh thank you eh no tutto lo devi usare tutto dai chiudiamo qua vediamo poi di farlo fuori video perché sennò facessimo tre ore a dopo ciao 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 ciao